Questo bimbo si chiama Manfico, è tornato 3-4 giorni qui a Ischia, venuto da Kiev, scappato con la mamma, è un poco timido, stiamo cercando tutte le mamme di farlo stare in suo Paggio, sta surridendo, prima non parlava prima, vogliamo ringraziare tutto il popolo schietano che ti aiutato Mi racconti un po' tu sei scappata da Kiev, giusto? Qui si è inizio a Kiev? Sì, inizio a Kiev, a che cosa ti puoi dire? In Kiev c'è stata una guerra, e ho chci dire molto d'accordo a tutti i mieszanciaci dell'estero, che non ci sono resti. Ira vuole dire che hanno scappato proprio da quello territorio dove hanno burbantato, già non riuscirono neanche a dormire in calma. Il marito di lei è rimasto là a proteggere il nostro paese, i genitori pure rimasti là, lei con grande dolore è dovuto scappare per salvare il bambino. È arrivata qua e molto voglio ringraziare tutte le persone che hanno accolto lei qua a Ischia, che hanno aiutato, che stanno chiamando ogni giorno a chiedere se qualcosa serve, se possono aiutare, se possono servire di informazioni, di documenti, di tutte cose. Allora non è che è venuta qua e è abbandonata, tutti i venuti, tutte persone, ischiettani, ucranie, altre diverse nazionalità che sono qua a Ischia a aiutare lei, a Bimbo, a dare suo sostegno. Come sono stati i primi giorni a Chievo quando è scoppiata 14 giorni fa la guerra? I primi giorni a Chievo quando si scoppiata prima bomba e tu non saprai cosa devi fare, scappare, nasconderci. No, Kievo spocatutto почали bambiti, e in centro di città darila raketa, e poi c'è paura da morire, non sai dove, cosa bambino prendi, qualcosa, scappi dove vedi, non sai. Come devi reagire. Troppo sireni in tutto il mondo, molto страшno, non sai cosa fare, ma non sai cosa fare. Questo è molto neociculante per la nostra regione. Oggi avevi casa, qualche business, qualche negozio, qualcosa. Sei svegliato e non ci sta niente. Sei rimasto senza niente e devi scappare con un bambino in un altro paese che non conosce niente. Mi racconti l'emozione di quando hai sentito la sirena? Tu дуже страшno прокидатися під sirena, тому що ти не розумієш, що ти ніколи жив спокійно, як часи, і коли ніколи ми не чули sireni, зоцями жили. Quando hai sentito prima sirena, non capivano cosa fare. Oni volka, quando scoppia sirena, tu sus veli in paura. C'è sì, мирно в країні, а коли ти просипаєшся, то ти не знаєш, що робити просто. Це дуже важко, збагнути те, що зараз дуже страшно, просто відшорохаєшся від любого звуку якогось, тому що навіть страшно, коли тут знаходитесь. Servet scapare, non scapare, servet non scapare, servet non scapare se in cantina, o dove scapare, perché questo, come già entrato psicologico nella testa, і tu non riusci capire. Бачиш літаки, і то вже думаєш, то наш літак, чи не наш, то ворога, дуже страшно просто, і ці sireni. Damo, che succede? Sei in salvo, o ancora sei in pericolo? Та ж таки все закінчиться, і буде мирний час, і ми повернемося до своїх батьків, до чоловіка, і все, настанеться, добре буде, тому що діти – це наше майбутнє, і їм дуже важко пояснити, що країни… …speriamo che i nostri bambini crescono già in pace, per non vedere questo che abbiamo passato noi, perché loro sono il nostro futuro, e vogliamo, che finalmente, sarà pace e tutto si risolve. … … … … … …